Il Crotone Calcio ha esonerato un mister Giovanni Stroppa. La decisione è arrivata nel pomeriggio. Probabilmente, alla base di questa mossa, ci potrebbe essere l'ennesima prestazione non proprio al top della squadra Rosso-Blu, dopo il pareggio di domenica sera contro la Salernitana che ha scosso parecchio il tecnico Lombardo. 20 giorni fa aveva ricevuto il rinnovo della fiducia da parte del Crotone. Il club, presieduto da Gianni Vrenna, ha scelto la nuova guida tecnica che dovrebbe arrivare in Calabria tra qualche giorno. Si tratta di Massimo Oddo, grande carriera da calciatore alle spalle, avendo militato in club prestigiosi come Milan, Lazio e Bayern Monaco, nonché a novera svariata e convocazione in nazionale, con la quale nel 2006 ha vinto anche il campionato del mondo giocatosi in Germania. In panchina ha allenato il Pescara dal 2014 al 2017 per tre stagioni e l'Udinese nella stagione 2017-2018. A traghettare la squadra tra i due mister ci penserà l'allenatore della primavera, Ivan Moschella, che sarà in panchina mercoledì sera nel turno infrasettimanale che i pitagorici giocheranno in trasferta a Lecce. Da Crotone per l'AC News 24.